Oggi è il primo e ultimo giorno alle medie. Si spera l'ultimo anche in presenza. Sì, speriamo in presenza. Sono ottimista però non si sa mai. Sì, spero che con il Green Pass e tutto quanto avremo meno problemi. Anita come l'hai vista? Era contenta di tornare a scuola? Sì, felicissima. Sì, felicissima. Mi sono fatta qualche domanda. Vorrei capire se sono gli stessi che avevano paura a tornare in classe. Anita invece non ha per niente paura? No, Anita non ha paura. Paura non l'ha. No, no, perché lei ha sempre detto che in classe stanno con la mascherina, le finestre aperte. E mi pare anche che i fatti abbiano dimostrato che la classe non contagia, nel senso che non ci sono mai stati delle diffusioni molto forti. Si sa già che cosa vorrà fare Anita dopo le medie? Che liceo? Che scuola? Lei è lo scientifico, credo. A lei piace molto la matematica. Dai in bocca al lupo. Crepi il lupo.